Grazie, si va agli ordini dello starter partiti. Non brillante rosa americana che prova però a riprendersi all'interno di Sangrita che oggi corre davanti e che perché ha contrato Kindergarts. L'ho fatto per trovare posizione in corda perché Kindergarts passa in vantaggio su Sangrita che all'esterno Tau Areste, quarto in corda rosa americana, in coda Palazzo Marino. Quindi conduce abbastanza anche liberamente Kindergarts nell'approccio in curva, Sangrita nella sua scia, terzo di fuori Tau Areste, quarto in corda rosa americana, in coda Palazzo Marino. Sangrita segue le mosse di Kindergarts a 550 metri da conclusione, cioè l'ingresso in dirittura. Di fuori Tau Areste senza spazio di rosa americana che prova ad andare di dentro. Kindergarts prova l'allungo da Sangrita e Tau Areste, poi rosa americana e Palazzo Marino con Kindergarts che sta scappando da Tau Areste e Sangrita. Poi rosa americana, poi Palazzo Marino, Kindergarts è ancora in vantaggio, rincorso da Tau Areste e Sangrita. Poi rosa americana con Tau Areste che si impegna, poi anche Palazzo Marino prova la progressione. Nel finale Kindergarts, Tau Areste e Sangrita, Kindergarts che vince su Tau Areste e Sangrita, 2-1-4. L'ordine d'arrivo di questa prova, il betting aveva sentenziato al gioco Kindergarts 2-18 al tot nazionale Antonio Domenico Migheri per il team tutto familiare tra cugini, moglie e lui che lo monta la mattina. 2-1-4 è l'ordine d'arrivo, quarto Palazzo Marino, battuta rosa americana. Per il momento della postazione centrale Andrea a te la linea se hai bisogno.